In via Termini a Lentini marciapiedi dissestati, buche e recinti delle oiole spattitraffico smantellate. Questo accade perché l'amministrazione comunale non ha pensato ancora di fare decollare i cantieri di lavoro per gli interventi di riqualificazione di strade e marciapiedi. Numerosi disoccupati infatti sono in attesa dell'avvio dei cantieri di lavoro per rimettere a sesto i marciapiedi di via Termini dove il pavimento è costellato da smottamenti che incidono sull'incolumità dei pedoni e delle basole che delimitano le oiole spattitraffico distrutte da automobilisti senza scrupolo. A questo punto la domanda sorge spontanea. I cantieri di lavoro a Lentini sono un'opzione? Pare proprio di sì. Grazie.